L'Atletica diventa un fumetto da un'idea di Sveva Gerevini. La nostra campionessa di prove multiple ha lanciato insieme all'imprenditore Matteo Penna un progetto per coinvolgere le giovani generazioni. Lo stile unisce i tratti dei manga giapponesi con quelli dei classici Disney, creando un mix unico e accattivante con l'obiettivo di portare l'Atletica al grande pubblico, facendola uscire dalla nicchia degli appassionati e raccontando le avventure di Marcel Jacobs, Antonella Parmisano, Larissa Iapichino e tanti altri. La missione del progetto è quello di usare il potere delle storie illustrate per comunicare i valori autentici dello sport e avvicinare le giovani generazioni mostrando il talento degli atleti sotto una nuova luce trasformandoli in personaggi iconici e ispiratori. Per gli appassionati è già disponibile online il primo capitolo, in totale saranno 120 pagine di storie a fumetti in 80 tavole scaricabili online e disponibili in una versione lusso, con le ultime pagine dedicate ai singoli atleti e spazi bianchi per raccogliere autografi con l'obiettivo di coinvolgere sempre più giovanissimi alle gare. Nel racconto Sveva Gerevini ha un ruolo centrale perché è chiamata dai quattro ragazzi protagonisti per aiutarli a organizzare un evento di atletica per celebrare la fine dell'anno scolastico. La campionessa di Casalbuttano, essendo una multiplista, diventa il collante tra i protagonisti e gli altri sportivi, dieci primatisti nelle rispettive discipline con cui può dialogare dei vari aspetti tecnici, tra loro anche un altro cremonese, il decatleta Dario Dester. Ma il progetto non si ferma qui anche perché Web Athletics produrrà anche un gioco ed è allo studio un workbook perché il passaggio successivo sarà proprio quello di portare il fumetto nelle scuole come strumento per avvicinare all'atletica alunni e studenti e perché no riempire di giovani i palazzetti.